Salve cari amici e cari amiche, oggi desidero esprimere qualcosa che non riguarda né la terra piana, né la geoingegneria, né tantomeno la salute e la malattia, anche perché la piattaforma YouTube permette la pubblicazione di ciò che è imposto dal sistema di comando e controllo sulle persone, non sulle macchine. Ciò che cerco di esprimere non riguarda nemmeno canzoni o comicità, ma concetti che valuto importanti. Quindi, se pensate e non vi riguardi, chiudete il video e tornate a fare la rana bollita. So che molti di voi hanno già visto, parlato e discusso gli argomenti diffusi da altri canali riguardo la quinta dimensione. Le frequenze cambiano e ci sposteremo sulla quinta dimensione, l'era d'oro, dove tutto quanto sarà perfetto. È da anni che sta andando avanti. Non so esattamente di che tipo di frequenze si tratti, ma stanno cambiando ogni momento e noi siamo sempre più vicini. Ogni momento, è da cinque anni che ci stiamo avvicinando, può succedere da un momento all'altro. Pertanto, siate pazienti e non perdete la speranza, perché ormai ci siamo. Quanto dobbiamo aspettare? Beh, non lo sappiamo con certezza, ma fate le vostre ricerche sulla quinta dimensione, perché nessuno vi sa dire quanto dobbiamo aspettare. Cercando, troveremo decine e decine di risposte differenti, ma la fede, il credo e la speranza condite assieme vi daranno la forza di attendere. Come? Ah, ho sempre detto che credere è nemico di conoscere. Certo, perché non ci sarà nessuna quinta dimensione e non ci sarà mai. Probabilmente è stata inventata solo per creare confusione nelle nostre menti. Magari è stata inventata dal sistema, iniettata come sempre per farci credere, come il canon. Perché credere sempre a queste predizioni misteriose. Serve solo a scompigliare le persone, confonderle, diffondere false speranze. Magari di tanto in tanto qualcosa si avvera, ma spesso dipende da come vengono interpretati i messaggi. Quello che si ottiene sono solo seguaci e credenti che osannano, tipo «Canon è il vero salvatore». Usate la vostra testa. Sta andando avanti da anni e non è cambiato nulla. Avevo già pubblicato il video «Benvenuti alla fine dei tempi per i credenti dei politici di ogni razza, colore, un'azione, sveglia». Il 25 ottobre 2020 l'avevo pubblicato, dove si capisce che Trump non farà niente e nulla per salvare l'umanità. Eppure troppi di voi sperano in canon. Ennesima farsa inventata e portata avanti per cercare di salvaguardare il suo potere. Link del video nella descrizione. Sono i governi che controllano questo mondo, che ci controllano e diffondono puttanate come questa. Così impestano di video ripetendo le stesse castronate su internet perché chi le diffonde non usa il cervello, ma si limita a credere cose ripetute come guerre, bombe atomiche, malattie, fame e non riescono a comprendere che inseriscono polvere di insetti in tutti i prodotti. Pane, pizza, pasta, panini multicereali, cracker, grissini e barrette cereali compresi, questo per quei vegetariani che si scagliano contro gli onnivori. Non avete capito una cippa se non avete compreso che insozzano tutte le cose naturali di cui vi cibate. I governi sanno perfettamente che fintanto crediamo in qualsiasi salvatore che verrà a salvarci e rimarremo docili e al sicuro con la speranza di aspettare. Aspettare senza fare nulla e questo vale anche per i credenti di qualsiasi religione. Vi illudete di non dover fare nulla per essere salvati. Pertanto continuate ad aspettare per il resto della vostra vita mentre i governi continuano a violentarci rubando il nostro denaro, imponendo nuove leggi contro di noi, autorizzando nuovi cibi contro di noi. Non cambierà nulla. Nessun salvatore, nessun cambiamento di frequenza, nessun attacco da parte di governi col cappello bianco, nessuno verrà a salvarci. Sono d'accordo che alcuni di questi video sono per intrattenerci, ma è solo una perdita di tempo. Il solo modo di cambiare le cose è cambiare noi stessi. Ogni azione che facciamo cambia questo mondo. Ogni parola che pronunciamo cambia questo mondo. Ogni pensiero che diffondiamo cambia questo mondo. Cambiamo questo mondo semplicemente cambiando noi stessi. Non sottovalutate il potere che abbiamo. Le nostre ispirazioni possono cambiare il mondo. Non odiamo le persone che pensano in modo diverso dal nostro. Non odiamo le persone se non siamo d'accordo con loro. Non odiamo le persone quando ci trattano male. Al posto di vendetta ed odio inviamo pensieri d'amore. Lo so che è difficile metterlo in atto e so perfettamente anche che non sono perfetto. Che ho fatto errori e che ho sdegnato persone, ma il nostro odio non cambia nulla. Anzi, peggiora le cose. Il perdono forse non cambia le altre persone, ma cambia noi stessi. Ci rende più forti. Tutti noi vogliamo un mondo migliore e questa è la sola maniera per farlo. Se il male comanda questo mondo c'è solo un modo per distruggerlo e questo è l'amore. Smettete di credere e pensate.